Lo sapevi? Cristiano Ronaldo è cresciuto senza un allenatore. Non aveva nemmeno abbastanza tempo per allenarsi, perché faceva altri piccoli lavori per aiutare la sua famiglia a sopravvivere. È dovuto essere l'allenatore di se stesso, fino a quando ha incontrato Sir Alex Ferguson, al Manchester United. Ronaldo Junior, invece, ha il giocatore più diligente in assoluto come allenatore e papà. Ha anche tutto il tempo del mondo per allenarsi, e tutti i mezzi necessari per farlo. Questo è il motivo per cui Ronaldo Junior sarà migliore di Cristiano Ronaldo.